Ed eccoci, inizia la nuova settimana di Borsa, bentornati sul nostro canale YouTube, mercati che pian piano attendono sempre con più trepidazione le presidenziali, anche se poi si legge di tutto e il contrario di tutto, nel senso se vince Trump salirà questo settore, se vince la Harris salirà quest'altro settore. Mi fa, devo essere sincero, anche abbastanza sorridere il discorso che vede Wall Street salire sempre nell'anno delle presidenziali. In verità non è che nell'anno delle presidenziali Wall Street salga e negli altri anni non salga, è un'economia importantissima, l'economia più forte del mondo e nel medio-lungo periodo sale sempre, quindi anche quando non ci sono i presidenziali, per cui questa statistica mi ha sempre un po' lasciato così indifferente. Andremo a vedere i titoli che trovate nella copertina che sono quelli che avete chiesto nei commenti dei precedenti video e puntini puntini ne vedremo un altro che mi piace moltissimo. Partiamo subito quindi con un titolo che avete richiesto dopo il recente crash clamoroso in discesa del 50% in pratica Capri Holding, Capri che è andata a fare questo gap in virtù di una mancata fusione sulla quale il mercato puntava molto, la notizia ha veramente creato un disastro, volumi altissimi, il titolo che passa da 41 dollari a 21 dollari. Beh, quando abbiamo questa situazione è molto difficile dire adesso è molto bassa compro perché ovviamente il mercato l'ha ammollata perché senza questa operazione probabilmente la valuta molto molto di meno e quindi onestamente per quanto mi sia stata richiesta qui è davvero difficilissimo con questa volatilità ipotizzare un'area interessante. Proverei a ipotizzare l'area dei 17,50-18 dollari per azione dove vediamo veramente fare uno swing, quindi dopo un gap così forte, perdere quasi il 50% non credo mai a una risalita immediata, quindi provererei ad aspettare un livello più basso tra i 17,50 e 18 dollari per azione. Un titolo che peraltro anche a questi livelli sembrerebbe sopravvalutato, un titolo che se andiamo a vedere negli ultimi, nelle ultime trimestrali ha consegnato comunque delle perdite, quindi un titolo sicuramente particolare da questo punto di vista, profit margin error attualmente negativi, un debito sotto controllo in fede del patrimonio, ma chiaramente la situazione generale non è una situazione troppo invitante. Se andiamo a vedere Capri Holding, eccoci qua con il Forecaster, progetta, commercializza, distribuisce e vende al dettaglio abbigliamento, calzature, accessori per donne e uomo di marca negli Stati Uniti, Canada, America Latina o praticamente ovunque. Offre pret-à-porter, accessori, calzature, borse, sciarpe e cinturi, piccola pelletteria eccetera. Quindi sono dei consumi discrezionali, un settore che è comunque in salute e proprio su questo settore secondo me c'è un altro titolo a Wall Street che può essere interessante e l'ho messo e lo vedremo più avanti nel video. Se proprio dovessi scegliere questo settore Capri Holding dopo questo crash, onestamente non mi fa assolutamente impazzire per quanto sia considerata una compagnia con dei dati buoni e insomma quando il mercato molla così pesantemente un titolo non voglio mettermi contro il mercato. Poi è chiaro che si può fare operazioni di brevissime e dire un gap così probabilmente darà il via a un tentativo di rimbalzo sicuramente ma dobbiamo anche usare il buon senso. L'aria, il sentimento adesso è davvero davvero negativo. Poi avete chiesto T-next che già avevamo analizzato tempo fa. Beh la situazione di T-next è graficamente anche interessante perché in ottica proprio di brevissimo nella sessione di venerdì ha consegnato una candela di stampo rialzista, una buona candela che peraltro chiaramente qui siamo sul brevissimo ha fatto proprio un doppio minimo a 10,60. Durante l'ultima fase di downtrend i volumi erano in calo quindi ecco questo potrebbe essere un livello interessante per una ripartenza di un titolo che chiaramente ha nell'arco di tre anni avuto un downtrend prolungato passando da circa 43 euro per azione a 10. Il fatto di essere appena sopra a una cifra tonda così importante beh potrebbe essere un livello dove il mercato comincia ad accumulare. Possiamo anche vederlo come livello che nel passato ha fornito supporto salve salvo questa profonda discesa ma qui vedete marzo 2020 quindi covid per cui i 10 euro ci sembrano un livello sicuramente plausibile in ottica in ottica buy. T-next siamo ovviamente a piazza affari eccoci qui andiamo a vedere servizi di digital trust cyber security informazioni e gestione del credito innovazione marketing grandi aziende banche società assicurative finanziarie piccole e medie imprese associazioni e professionisti prodotti digital trust posta elettronica certificata firma digitale marca temporale fatturazione elettronica quindi sicuramente un settore assai florido dividendo interessante creazione di valore per gli azionisti un pie accettabile un eps positivo il titolo sembra sotto sottovalutato non vengono considerati il valore economico aggiunto e il flusso di cassa perché darebbero un risultato troppo alto come se dovesse sfalsare il tutto ma se li andiamo a mettere perché effettivamente danno questi parametri beh vediamo il titolo ampiamente sottovalutato c'è una costanza di fatturato e di utili e i ratio sono accettabili il debito è assolutamente bassissimo il roe non è eccellente ma almeno sufficiente ossia è superiore comunque al ritorno dei titoli di stato quindi i soci sicuramente possono dire che c'è una remunerazione sufficiente profit margin non altissimo ma comunque sufficiente per cui dei dati sostanzialmente buoni altman z score sta peggiorando piotrowski però è 7 su 9 buono e la compagnia viene classificata come resiliente ossia la creazione di valore pian piano diminuisce ma diminuiscono anche le azioni in circolazione quindi possiamo ritenere discreta la situazione con questi dati fondamentali basilari di tnexta è anche il livello grafico ci sembra plausibile in ottica in ottica by d'amico d'amico ogni tanto viene fuori uno di quei titoli che è molto seguito per quanto non sia un titolo gigantesco attenzione perché d'amico adesso diventa molto interessante allora i massimi fatti a maggio a quasi 8 euro operazione adesso siamo a 5 17 i 5 euro che sono molto vicini sono un'area di swing importante qui era stato un minimo davvero importante ossia quest'area la resistenza rottura pullback e adesso e adesso beh dobbiamo seguirla perché oggi ancora debole si arriva ai 5 euro secondo me è un livello talmente pulito evidente oltre che storia psicologica e 5 euro dovremmo valutarlo in ottica in ottica by e d'amico risultati vedete non è assolutamente sottovalutato cioè per lo meno è sottovalutato in base tre parametri di pochissimo ok quindi un titolo che ha una valutazione corretta ma chiaramente con i numeri che fa potrebbe riprendere la salita perché ha un dividendo assolutamente interessante crea molto oro per gli azionisti ha una crescita che è ripartita nel 2022 2022 scusate nel 2023 di fatturato e utile e un debito assolutamente diciamo sotto controllo almeno della metà del patrimonio netto però è eccezionale profit margin molto molto buono quindi sono tutti i dati interessanti la mazzetta scuola e miglioramento piotroschi il massimo 9 su 9 e quindi possiamo assolutamente considerarlo interessante aveva fatto un aumento di azioni quindi aveva chiesto soldi al mercato aveva emesso azioni ma dal 2020 in poi non sono state più più emesse quindi anche questa situazione sotto controllo abbiamo detto anche in aumento la creazione di valore per gli azionisti e dati finanziari ponderati o pesati che dir si voglia quindi ai 5 euro assolutamente assolutamente in watch list con un bel alert ai 5 euro d'amico altro titolo che due volte mi avete chiesto mentre devo chiedere scusa al nostro follower che da un po di tempo mi chiede con car titolo quotato alla borsa di zagabria per la quale sto cercando di reperire qualche dato ma oggettivamente non è semplice e vediamo vale vale attenzione titolo top 23 euro per azione triplo massimo nel 2021 adesso siamo in area 10 e 80 potremmo assistere adesso andiamo a fare uno zoom potremmo assistere a un bellissimo triplo minimo anche se questa mattina già una ripartenza per cui in tutta onestà si potrebbe da subito cercare il buy perché questa mattina ha aperto in gap up e ha dei volumi molto molto alti e siamo a mezzogiorno mentre stiamo registrando quindi questo è un titolo che secondo me già adesso sta sta ripartendo l'area supportiva il doppio minimo ha dato forza pullback e secondo me questo è un buy almeno ovviamente parlo a livello di analisi tecnica didattica a livello del tutto personale questo mi sembra assolutamente un movimento che può portare a un rialzo e andiamo a vedere vale oppure a chiedo scusa guardate lo faccio vedere per l'errore mio questo è il prezzo di venerdì non di questa mattina perché chiaramente essendo a wall street non ha ancora aperto vedremo come apre quindi questo gap up è quanto il prezzo ha fatto nella seduta di venerdì ok quindi vedremo oggi pomeriggio come apre quindi perdonate la mia topica dicevo andiamo a vedere vale siamo in una società che ha sede in brasile e qui si è quotata sul sul nice eccoci qua produce e vende minerali di ferro e pellet di minerali di ferro da utilizzare come materiali prima nelle produzioni dell'acciaio in brasilia a livello internazionale quindi un industriale per eccellenza una società importante 46 miliardi di capitale sociale 75 mila dipendenti quasi dividendo assolutamente interessantissimo creazione di valore per gli azionisti un pie basso infatti il forecaster ci dà tre passate possibili parametri e la media dei tre parametri ci dà un fair value quindi una stima del cosiddetto giusto valore di oltre 27 dollari quindi il titolo è un titolo importante con dei buoni dati sembrerebbe davvero sottovalutato restos molto buoni debito bassissimo l'alma z score non è assolutamente eccellente bene piotroschi e a posto per i dati finanziari condizione di valore e il buy back che la compagnia fa in maniera seria perché in sette anni siamo passati da 5 miliardi e 200 milioni di azioni a 4 miliardi e 370 quindi c'è un buy back vero il titolo assolutamente sembra super super interessante da questo punto di vista non non possiamo non prenderne atto che c'è una situazione grafica supportiva ai 10 dollari e il tutto in un contesto di dei principali dati di bilancio assolutamente interessanti dati bilancio che vediamo col forecaster come sempre in descrizione il link per abbonarsi allo strumento che ormai è quotidiano il forecaster che davvero riteniamo interessantissimo utilissimo poi avete chiesto coca cola beh qui abbiamo trimestrali in arrivo e se dovessimo essere così insomma un po' menagrami dovremmo sperare in una trimestrale negativa per avvicinarci il più possibile ai 65 dollari ossia su questa trend line dinamica che accompagna il trend rialzista infinito giustamente di coca cola quindi proverei ad aspettare a qui 64 e 50 questo livello dopo aver visto il titolo quasi a 74 beh significherebbe una discesa del 15 per cento ecco titoli così poco volatili così importanti essendo presenti praticamente su tutti i portafogli degli asset manager degli edge fund dei gestori beh un titolo così quando perde il 15 per cento diventa una buona occasione in ottica di portafoglio quindi coca cola la seguiamo area 64 e 50 assolutamente da seguire poi la richiesta su mcdonald sappiamo tutti il crash che ha avuto per l'epidemia che ha causato il suo nuovo panino il quarter pound qualcosa del genere c'è un panino che con 25 centesimi di dollaro potevi potevi ottenere però c'è stato un batterio a quanto pare non si era capito se nel manzo nelle cipolle fatto sta che addirittura una persona è deceduta molte sono state contagiate quindi chiaramente per quanto questa cosa si va subito a diciamo a circoscrivere perché insomma parliamo di mcdonald però poi il sentimento immediato è profondamente negativo c'è stato quindi il gap tentativo classico di pullback e poi nella sessione di nerdy ribasso importante abbiamo la trimestrale in arrivo ecco quindi un ritorno in area 280 dove transita la media mobile a 200 dovremmo verificare se qua se il titolo ci arriva chiaramente perché potremmo avere anche una trimestrale eccezionale il titolo fa più 10 ma se dovesse tornare in area 279 280 dovremmo vedere se poi il grafico consegna idonei pattern rialzisti se invece si dovesse avere perché non si può mai sapere la rottura al ribasso della media mobile a 200 a quel punto beh a quel punto abbiamo l'area dei 262 che è un'area interessantissima di swing questo questo ribasso qui fatto tra maggio e luglio aveva avuto questo triplo massimo un'area di resistenza molto forte rotta a rialzo con un rally molto ripido quindi questo è un livello che adesso è diventato un livello supportivo di swing che se dovesse essere preso sarà assolutamente da considerare in ottica buy quindi i 280 e i 262 li dobbiamo monitorare e poi invece un ultimo titolo che è tornando a parlare di capri quindi consumi discrezionali è un settore comunque in salute io stavo seguendo un titolo azionario che ha avuto una lunga fase di downtrend dollar general addirittura in due anni è passato da 260 dollari adesso siamo a 80 aveva avuto una trimestrale non buona e credo che potrebbe anche arrivare 70 dollari su questa importante area supportiva dal quale proprio era partito un movimento importante e duraturo di uptrend adesso abbiamo una area di doppio minimo però non possiamo davvero escludere che faccia un movimento esaustivo dove secondo me poi il mercato potrebbe andare a riaccumulare dollar general è stato totalmente dimenticato dal mercato e se andiamo un attimo col forecaster a vedere alcuni dati di dollar general eccoci qui dollar general corporation vedremo che conglomerato importante è innanzitutto 185 mila dipendenti 17 miliardi di capitale sociale è il classico conglomerato che offre praticamente tutto a prezzi bassissimi e in questo periodo in questa congiuntura economica secondo me è un settore che sta per tornare assolutamente vista la situazione della capacità di risparmio praticamente ormai nulla delle famiglie americane rivenditore al dettaglio fornisce vari prodotti di merchandising negli stati uniti meridionali sud occidentali mild west e orientali prodotti di consumo tra cui carta prodotti per la pulizia asciugamani di carta fazzoletti stoviglie sacchetti per la spazzatura conservazioni disinfettanti prodotti per il bucato alimenti confezionati quindi di tutto e di più a prezzi molto bassi il titolo sembra davvero molto molto sottovalutato addirittura se inseriamo i flussi di cassa ci dà una sottovalutazione importantissima dovrebbe valere più del doppio ha avuto un 2023 non eccezionale con una discesa degli utili ma comunque sempre fatturato e utili presenti vedete fa un profitto basso perché effettivamente vende tutto a prezzi molto bassi ma con una certa con una certa costanza nell'arco nell'arco del tempo il raw è più che buono il debito non è bassissimo ma è inferiore al patrimonio quindi è comunque sotto controllo l'atma z score è sicuramente decente il titolo è considerato stabile e attenzione perché anche qui c'è una creazione di valore sia per gli azioni sia per i soci sia un aumento dei un miglioramento dei dati finanziari e un buyback che prosegue che prosegue nel corso nel corso degli anni quindi ecco qui vediamo esattamente la torta che ci dice da dove deriva il diciamo il totale degli introiti di dollar general e secondo me a questo punto un titolo così grande mi riferisco proprio alla entità dei negozi che sono che sono presenti ecco 18.190 negozi in 47 dei 50 stati degli stati uniti credo che comunque il mercato adesso dovrebbe iniziare a riscoprirlo tra virgolette l'area supportiva c'è ripeto non è un titolo eccezionale o chissà che cosa però è uno di quei titoli che a un certo punto si può dire bene a 250 dollari quel profit margin è troppo caro da comprare a 70 dollari può diventare interessante quindi per me è assolutamente in voce lista a 70 dollari dollar general anche per oggi è tutto grazie un appuntamento ormai quotidiano vi invito a richiedere i titoli che volete o altri asset anche euro dollaro il petrolio un indice il gold palladio qualsiasi cosa vogliate vedere vi invito a scriverlo nei commenti vi invito a iscrivervi al nostro canale perché siamo ogni giorno disponibili a condividere le nostre analisi un grande grazie a tutti buon trading grazie a tutti